Ciao ragazzi, oggi video velocissimo in mobilità. Allora, perché vi faccio questo video oggi? Perché in tanti sono sicurissimo avrete fatto una pensata. Beh, dopo tutta questa siccità, è meglio fargliela prendere un po' di pioggia alle nostre piante. Ricordatevi che le nostre piante non soffrono la siccità che c'è stata, non soffrono la carenza d'acqua, perché comunque noi, nell'educazione bonsai, per educarli, per mantenerli, per dargli insomma tutto il nostro amore, tendiamo a dargli sempre l'acqua quotidianamente, tendiamo sempre a nebulizzarli, tendiamo sempre a tenerli nel migliore dei modi. Quindi tutta quest'acqua, ricordatevi che fa molto molto male alle piante. Quindi un giorno va bene, il secondo giorno, mi raccomando, coprite il terreno, perché se no soffrono veramente tanto. Ragazzi, ci vediamo alla prossima madre natura. Ciao!